Inizierei dalla storia di questo posto molto antico, da Domus Romana a Masseria Fortificata. È un'azienda agricola, i nostri prodotti sono grano, saragolla, mi piace sottolinearlo, olio, molte molte ciliegie, ne abbiamo ben 2800 alberi. Poi cercando di migliorare l'azienda e di aprirla anche ad altre attività oltre all'agricoltura, tipo masseria didattica, agriturismo, l'agricoltura, il ritiro, il ritrovare se stessi, sono queste le cose che mi interessano da vicino. Noi siamo Masseria Piutri, noi siamo terra dei Messapi. Grazie. 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 Grazie.